Un progetto in stile, ma ne va menzionare, joint venture, partnership entre biblioteca nacionale, Metabolic Foundation, con manegador di Branch's Lab, anteriormente, e Futura, con un progetto in cui la biblioteca sta offrezzendo la località. La biblioteca sta a iniziare, e sta a iniziare a fare il progetto. A so maniera a stricte di menzionare, non sta a keep up e non sta reinventando una mese. E a maniera a stricte di menzionare, il progetto porta un stop per da un'altra biblioteca del Caribe lo porto ma tambi. E'a maniera la visa porta e promè di stile aki, di scutti un maker space di un biblioteca. E nang si, biblioteca provide a location, a nosa ayuda con recurso, con conecta, diferente actor na involvi junto, e pa buscati sin generis poi con un'unico iniziare a che con il vivere. Tocos che ti ave con la makin, che è un'3D printing, robotics, un ticket di programmi, 3D messi, un'3D mappin... Varissi ci a noi non se considera essenziale para il futuro. La Bampone si mette molto a casa, si mette un'idea che ti mette un design che ti mette qualcosa, poi vengono, completamente gratis per arrivare, quindi non ti guiavo. Quindi se mette in più, se mette in cd-workshops che con i portati un prezcarchi, la biblioteca nazionale, prima di collaborare, grazie a Astrid per senti con noi per l'inizio, Pater Schouling, grazie a la Metabolic Foundation, Cresti, Toni, con i nostri altri proiecti, noi stiamo insieme. Quindi ci mette in cd-workshops per collaborare, per lavorare con noi, per portare un gol con noi, per collaborare, per usare meno risultati possibili, per il mio risultato. E anche il nostro primo ministro, con i nostri amici, di dei aoni avisa, è un altro essenziale per il futuro. Il proiecto che c'è un continuazione, dal quale il nostro comizia, il nostro comizia, ora è finita, e non è finita, e ora è finita, non è edificio, non è stato. Grazie a tutti i miei ministri dell'educazione, che è stato a porto al inizio, che pone i ricursi disponibili e sempre in contatto con noi, con la biblioteca PAUAC, con questo progetto che è possibile. Noi abbiamo, in realtà, di reinventare le identità di diverse instituzioni, ma non bisogna fare anche il nostro corso. In futuro, i miei colleghi sono il chief innovation officer di Varele Cruz per la sua determinazione e per la guia di tutti i giocatori che sono involvati per arrivare a EDIAC. Grazie.